Dare voce a chi non ha voce, far conoscere le storie di tutti coloro che sono lontani dalla luce della ribalta e in questi tempi di difficoltà e di crisi raccontare il bene che viene fatto da semplici cittadini, organizzazioni, istituzioni e che spesso non fa notizia. Sono partiti da qui, da questi elementi, gli organizzatori del premio Natale Uxxi che tornerà sabato a radunare in sala razzi numerosi operatori della comunicazione. Un evento importante realizzato con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazione, Banca Popolare di Verona, società editrice Atesis e con la collaborazione dell'Ufficio Regionale Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale del Triveneto. Quest'anno è un anno importante perché è l'anno del ventennale del premio. Da vent'anni premia le buone notizie, ma le buone notizie è un termine un po' generico, anche se ha un po' di qualche cosa che non buca lo schermo e che non fa notizia sui giornali. Quanto difficile è per un cronista oggi raccontare notizie come queste? Perché molto spesso è molto più facile raccontare dello sciopero, della manifestazione, raccontare quello che non va. Quanto invece è impegnativo per un giornalista cercare la notizia buona? Sì, è impegnativo anche perché, per esempio, noi al premio, nella giuria del premio, abbiamo ricevuto molti articoli, molti servizi di denuncia, non lo so, anche la denuncia delle nuove povertà, la denuncia anche dei cristiani perseguitati. Cioè ci sono tante notizie che non sono le classiche notizie di politica, di cronaca nera, eccetera. Per cui, diciamo, le segnalazioni sono state moltissime. A noi quello che abbiamo voluto premiare, in particolare, è la società buona, insomma, il bene fare, il fare bene, il fare delle buone cose. Per cui, appunto, come dicevo prima, non soltanto il denunciare la crisi che taglia le tasche dei cittadini, ma raccontare quelli che si danno da fare. Per esempio, nel premio televisivo, l'ha vinto un collega della RAI che ha raccontato, proprio qui il servizio è andato sul Tg1, sul speciale TV7, ma una storia qui del Veneto, dove ci sono le mense dei poveri, dove ci sono il banco alimentare che si dà da fare, dove c'è qui a San Bonifacio un imprenditore del settore che fa a pranzo un piatto di pasta a tutti quelli che glielo chiedono. Per cui, appunto, come dire, le notizie sono tante, ma raccontare quelli che le affrontano, quelli che affrontano, che cercano di dare una mano, questo è quello che noi vogliamo sottolineare con questo premio.